Grazie Beatrice, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa breakout session in cui vorremmo con voi condividere alcune considerazioni per quanto riguarda le nuove frontiere del welfare e degli employee benefit, la mental health, che cosa dicono i lavoratori, sia quelli delle aziende che Mercer March Benefit gestisce a livello internazionale e anche per quanto riguarda le popolazioni italiane che sono comunque popolazioni di aziende nostre clienti. Quello che dobbiamo iniziare a dire non è una novità, ma sappiamo tutti che il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando, dopo il Covid sono cambiate molte delle esigenze, delle necessità che le popolazioni aziendali hanno sottolineato e hanno esposto nell'ambito di quelle che sono le survey che noi abbiamo portato avanti. Come sappiamo e come Mercer March Benefit ha rilevato nell'ambito di quelli che sono i Global Talent Trends 2020, sono cambiati anche quello che è il ranking dei rischi relativi ai people risk. Sono cambiati e devo dire che anche gli HR ormai sono entrati nell'ottica di vedere questo ranking diverso rispetto a quello degli anni precedenti. Come potete vedere nel 2021 nelle interviste che abbiamo fatto a livello globale tra 1300 e HR manager e risk manager è emerso come degli scenari complessi stiano cambiando gli orizzonti in cui le aziende operano, determinando anche l'emergere i nuovi rischi che prima erano sottovalutati oppure valutati con un ranking diverso. Quello che è importante sottolineare dal nostro punto di vista è come siano aumentati nel ranking quelli che potevano essere i rischi relativi al deterioramento della mental health nelle popolazioni aziendali oppure l'aumento della necessità di well-being all'interno di quelli che sono i programmi di benefit. E questo sicuramente ha portato le popolazioni aziendali, quindi le persone che fanno parte poi di questa attività di well-being che le aziende mettono in essere, a ragionare con i propri, chiamiamoli, datori di lavoro o comunque con le aziende per capire come si può andare ad aumentare questo well-being e come devono cambiare quelli che sono i portafogli degli employee benefit che vengono dalle aziende dati proprio perché vogliamo comunque continuare ad avere i talenti e le persone all'interno delle nostre aziende allineati a quelle che sono le loro necessità di well-being. Quello che ha fatto Mercer Mass Benefit nel 2021 è lanciare una campagna di sensibilizzazione e di riconoscimento e di valutazione di quello che è l'elt on demand. Quindi capire, e come vedete abbiamo intervistato più di 15.000 dipendenti, circa mille di questi erano in Italia nell'ambito delle risposte, su quelli che erano gli obiettivi di questa ricerca. Quindi ascoltare la voce dei dipendenti e comprendere i bisogni e le preferenze che i dipendenti hanno nell'ambito del benessere post-pandemico, dei loro pacchetti di benefit aziendali, approfondire il business case per l'utilizzo della tecnologia digitale in un ambito salute e più in generale all'interno dell'offerta di benefit. La situazione pandemica che si è creata ha portato molte persone ad utilizzare sistemi digitali, a beneficiare di quelli che sono programmi benefit tramite dei sistemi digitali, dei sistemi di fruizione a distanza di questi servizi e soprattutto ha portato le aziende a esaminare quelli che sono i diversi gruppi demografici, a capire quali benefit, risorse e altre forme di supporto il datore di lavoro dovrà dare in futuro, non più ragionando dal punto di vista delle categorie di lavoro, ma ragionando dal punto di vista proprio delle persone, quali sono le necessità delle singole persone, nelle diversità di fasce di età, nelle diversità dei vari gender e gender che esistono all'interno delle aziende. Supportare le aziende a ridisegnare il piano benefit e ripensare il clima aziendale per soddisfare i nuovi bisogni delle persone che sono poi uno degli asset principali che le aziende hanno. Chiaramente per fare questo c'era bisogno di dati, c'era bisogno di riferimenti e di capire quali erano i needs che le persone segnalavano diversi rispetto a cosa succedeva prima di questa situazione pandemica. Lascio adesso la parola alla collega Sara De Rocco che ci porterà all'interno di questa analisi di questi dati che abbiamo esplorato e che abbiamo voluto condividere con voi oggi. Grazie Cristiano, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, innanzitutto il report che citava Cristiano è già uscito, è già disponibile con i dati a livello globale sui nostri siti internet e sarà disponibile a breve anche con uno spaccato italiano che oggi, i cui dati oggi vediamo in assoluta anteprima. Ma Cristiano parlava di bisogni, bisogni delle persone che abbiamo cercato di capire, di analizzare e rivedere proprio alla luce di quella che è stata l'esperienza pandemica che inevitabilmente ha accelerato o acuito dei fenomeni che tuttavia erano già in essere prima che la pandemia scoppiasse. E che cosa ci dicono i dati che abbiamo analizzato? Innanzitutto i dipendenti ci chiedono di essere supportati nei momenti critici o comunque nei momenti significativi della loro vita. Ci chiedono supporto per il benessere psicologico, per la mental health. Ci chiedono di valutare, di considerare le diversità proprio in una logica di equità e di inclusione della forza lavoro, anche nel disegnare i vari benefit. Ci chiedono sempre più spesso accesso digitale alle soluzioni in termini di protezione, di salute o comunque a tutte quelle soluzioni che appunto grazie all'avanzamento della tecnologia possono contribuire a migliorare l'esperienza del lavoratore o la vita di tutti i giorni. Più in generale ci chiedono una selezione ampia e diversificata di benefit. Questo perché? Perché nel momento in cui andiamo a parlare di bisogni specifici, di personalizzazione elevata, se abbiamo a disposizione una selezione molto ampia e molto diversificata saremo sicuramente in grado di soddisfare anche il singolo bisogno. Facciamo un piccolo focus sull'evento pandemico, perché i dati italiani su questo ci hanno un po' sorpreso rispetto ai dati globali. Innanzitutto il supporto ricevuto dal datore di lavoro proprio durante la pandemia. Ecco, in Italia solo il 36% dei dipendenti ritiene di aver ricevuto un supporto buono o molto buono da parte del proprio datore di lavoro, contro il 49% a livello globale. Questo secondo noi è da leggere sicuramente un momento insomma in cui probabilmente anche la comunicazione sappiamo è stata difficile, è stata complessa da gestire, ma probabilmente scontiamo un welfare che non è sempre al passo con i bisogni delle persone e che quindi forse necessita da un lato di essere riscoperto e ripensato, ma dall'altro anche comunicato in maniera costante e in maniera efficiente. Parlando con le aziende, spesso proprio la comunicazione dei benefit, e far capire alle proprie persone l'investimento che le aziende mettono in campo in questi ambiti non è così facile da far percepire e non è una comunicazione semplice. Eppure abbiamo visto proprio durante la pandemia che questo è un investimento sempre più importante. Il 38% delle persone che hanno risposto di aver ricevuto un buon sostegno da parte del datore di lavoro dichiara che ragionevolmente non lascerà l'azienda, quindi ancora una volta tutto il piano benefit e tutto il sistema di welfare aziendale, anche prima citato proprio da Francesco Seghezzi, ma anche dagli altri colleghi, è uno strumento sempre più valorizzato e di valore per l'engagement, la produttività e la ritenzione dei talenti, le sfide che sicuramente le aziende hanno davanti agli occhi nei prossimi mesi e anni. Un ultimo dato sulla pandemia, perché anche questo è un dato che si discosta molto sia dal dato globale che dal dato europeo, gli italiani intervistati hanno percepito la pandemia come interamente o quasi interamente negativa, mentre a livello europeo questo dato, quindi il 50% a livello europeo scende al 35% e addirittura scende al 33% considerandolo a livello globale. Questo significa che probabilmente le nostre persone hanno davvero accumulato una forte quantità di stress e ci stanno dicendo di avere dei nuovi bisogni. E fornire sostegno nei momenti che contano. Abbiamo detto questo è il primo findings della ricerca, che cosa significa oggi però? Che cosa significa comprendere davvero quali sono i momenti significativi per la vita delle nostre persone? Significa andare davvero in dettaglio, avere a disposizione dei dati anche molto granulari che spesso diventa difficile anche per le aziende andare a raccogliere, ma significa più in generale avere a che fare con una galassia, con quello che noi definiamo proprio un ecosistema di bisogni che è tutto un po' da scoprire. Quindi dobbiamo considerare questo quadro particolarmente complesso che ci porta, come dicevamo prima, una personalizzazione molto spinta dell'offerta e di quello che noi mettiamo in campo a favore delle nostre persone. personalizzazione che peraltro è anche alla base di tutte le strategie di diversity, equity ed inclusion che praticamente tutte le aziende al giorno d'oggi ancora una volta valorizzano come elemento importante. E qui invece vi riportiamo un piccolo, così una piccola vista delle prime 15 soluzioni, dei primi 15 modi o prodotti che i dipendenti valorizzano di più all'interno di tutto il sistema di welfare. Segnalo solo un paio di cose. Il tema della flessibilità, questo è stato citato da chi ci ha preceduto negli interventi precedenti, quindi sicuramente la flessibilità è sempre più un valore, ma vediamo che tornano alla ribalta, o meglio che arrivano alla ribalta sempre di più proprio le nuove tecnologie. Tutto quello che possono essere delle app che non solo rappresentano uno strumento di accesso veloce, rapido alle cure, quindi diciamo la soluzione un po' più consolidata e più tradizionale della telemedicina, ma anche tutto quello che, come dicevamo, aiuta a migliorare il tempo, a migliorare l'esperienza dei dipendenti. Offrire benefit diversificati e di valore, abbiamo detto secondo Findings. Ecco, in questo caso abbiamo visto come la quantità di benefit offerti alle persone conta, quindi vediamo la colonna di rosa rappresenta le aziende che hanno proposto alle loro persone più di dieci benefit, oltre quelli diciamo previsti e obbligatori da contratti collettivi di riferimento. Ecco, cito solo la prima e l'ultima colonna, perché aver dato una varietà di benefit a queste persone ci ha garantito un gap, quindi una distanza di 20 punti percentuali per l'engagement, quindi la prima colonna vuol dire che i dipendenti sono meno propensi a lasciare l'azienda grazie a questa maggiore offerta. E l'ultima, sono sicuro di potermi permettere l'assistenza sanitaria di cui io e la mia famiglia abbiamo bisogno. Ecco, questo è sicuramente un elemento su cui riflettere. Lascio a te Cristiano per il terzo Findings. Grazie Sara. Terzo Findings, favorire l'accesso digitale all'assistenza sanitaria. Ecco, quello che abbiamo visto per quanto riguarda l'Italia, le risposte che abbiamo avuto, le survey che abbiamo fatto, anche in Italia è cresciuta moltissimo la fiducia nelle soluzioni di digital health rispetto al 2019, quindi prima della situazione pandemica. Come vediamo, quelli che sono gli apprezzamenti che sono arrivati nelle valutazioni per app e dispositivi per aiutare l'autogestione delle condizioni di salute, app o siti web che aiutano a trovare e interagire con altre persone che hanno problemi di salute molto similari, ma soprattutto anche la consulenza psicologica virtuale tramite video chat, vista la situazione anche di isolamento in cui si trovavano molte persone, ecco questo, come vediamo, ha aumentato moltissimo la percentuale di fiducia che in Italia oggi c'è nelle popolazioni aziendali, passando di più di dieci punti di aumento tra una percentuale e l'altra in soli due anni. E come possiamo vedere anche nella seconda slide, che adesso vi mostreremo, oltre ad aumentare la fiducia c'è anche una conferma e un aumento da parte di queste persone che hanno partecipato alla nostra survey, di come i dipendenti che hanno già usato telemedicina e quindi hanno già usato questo tipo di sistemi digitali, vogliono continuare ad utilizzarli o avere la possibilità di usarli in maniera, diciamo, più importante nell'ambito di quelli che sono i pacchetti benefit. Quindi poter fruire di maggiori benefit tramite dei sistemi digitali o dei sistemi che lavorano sul web, quindi non lavorano nell'ambito di un rapporto diretto con il medico o con il consulente. E vediamo che le percentuali sono veramente importanti. Questo è sicuramente una conferma di come anche il mercato italiano sta spostandosi su un NIT veramente importante di questi sistemi e di queste soluzioni. Prego Sara, lascio a te la parola per gli ultimi punti. Abbiamo parlato prima di sostenibilità, di metriche ISG ed ecco che le soluzioni digitali in questo campo possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Non dimentichiamoci che l'obiettivo numero tre dell'agenda 2030 è proprio quello del Good Health and Wellbeing, ma poi ce ne sono altri che in qualche modo puntano all'equità e ancora una volta favorire delle società che stiano in buona salute, ma anche un equo accesso alle cure. Ecco, la tecnologia in questo può venirci in aiuto. Investire nella salute mentale, abbiamo detto, è anche il titolo che abbiamo deciso di dare a questo nostro focus del pomeriggio. Questo perché? Perché ancora una volta il dato italiano è particolarmente alto. Lo citavamo all'inizio, gli effetti che la pandemia ha lasciato sulle nostre persone e che ragionevolmente sarà un qualcosa che è destinato a rimanere. Un dipendente su due in Italia è stressato molto più che nel resto dell'Europa. Abbiamo visto in Europa il 42% contro il 49% dell'Italia, con addirittura un 20% di intervistati che ritiene di essere estremamente stressato. I dipendenti apprezzano una vastissima gamma di soluzioni che possano aiutarli a risolvere e a mitigare proprio la condizione di stress psicologico. Apprezzano praticamente uno su due, apprezzerebbero di poter avere delle coperture o dei programmi che garantiscano l'accesso a terapie e a trattamenti di questo tipo, ma apprezzano anche soluzioni digitali in ambito psicologico. Anche questa rappresenta una novità e in linea con quello che Cristiano ci raccontava prima, che c'è una cresciuta fiducia anche nelle tecnologie che hanno a che fare con la salute. Anche in questo caso il dato e l'impatto di investimenti di questo tipo è molto importante, perché se guardiamo il 52% è il dato di dipendenti che si ritengono molto più ingaggiati e molto meno propensi a lasciare l'azienda nel momento in cui hanno la possibilità di accedere a questo tipo di programmi. Offrire i benefici in modo equo. Parlavamo prima di ripensare forse anche alle categorie un po' più consolidate, un po' più tradizionali, per andare incontro ai bisogni delle persone. Questa chart ci mostra che c'è ad esempio un gap nell'accesso a coperture importantissime nei momenti veramente critici della vita, come la copertura sanitaria e la copertura infortuni, così come altre soluzioni. La differenza tra coloro che diciamo hanno un alto reddito, quindi sono sopra la mediana dei redditi analizzati, e rispetto a coloro che hanno un basso reddito. Quindi paradossalmente coloro che avrebbero più bisogno di accedere a certe soluzioni, forse sono ancora quelli che non hanno la possibilità di accedervi. Non esistono gli stessi livelli di gap nelle soluzioni introdotte più di recente, nelle soluzioni più nuove, vediamo quelli in basso nella classifica, segno che evidentemente le aziende stanno agendo proprio in questa direzione, cioè laddove non c'è un'obbligazione contrattuale, non ci sono dei benefit o degli status un po' acquisiti, si ragiona in una logica molto più omogenea. Ultimo dato molto importante è che le donne italiane intervistate si sentono meno sicure rispetto agli uomini, ma rispetto anche alle colleghe donne all'interno della popolazione globale, si sentono meno sicure di poter far fronte alle spese sanitarie per sé e per la propria famiglia. Anche questo è un dato su cui riflettere. Ci affrettiamo verso le conclusioni per questione di tempo. Grazie Sara. Allora, le conclusioni, quello che noi abbiamo identificato è poter rispondere a queste esigenze, a queste richieste che arrivano poi dalle popolazioni aziendali in cinque mosse, quindi analizzare ciò di cui i propri dipendenti hanno bisogno, cioè identificare i gap nei piani benefit che esistono, ripensare la strategia di well-being delle aziende rispetto agli obiettivi aziendali e rispetto anche agli obiettivi di well-being delle proprie popolazioni e modernizzare la composizione del piano benefit, includendo sicuramente delle soluzioni digitali, che siano in grado di promuovere l'inclusione e la sostenibilità e siano più allineati a quelle che sono le esigenze dei dipendenti in questo momento. Poi abbiamo detto ampliare sicuramente la gamma dei benefit offerti, aumentando soprattutto la personalizzazione, ma questo deve partire inevitabilmente da una maggiore e una più granulare comprensione dei bisogni, ma soprattutto abbassare le soglie d'accesso a questi benefit. E infine, dicevamo all'inizio, definire un piano di comunicazione strutturato, proprio perché i dipendenti devono conoscere quello che hanno a disposizione in modo da saperli usare proprio nel momento del bisogno. E questo garantirà anche una valorizzazione di tutta la strategia welfare che l'azienda mette in campo.